Salve, io sono Daniele Catini e sono regista. Sono anche attore ma poi con gli anni divento completamente regista. È proprio la carriera dell'attore con cui ho coniugato tra lo scrittore e il regista, quindi la volontà di tradurre in immagini i miei pensieri e le mie storie. Allora, io sono autore di diversi cortometraggi che hanno vinto sia a livello nazionale che internazionale e ho sempre amato in qualche modo rappresentare le storie che sono ai margini, le storie che non vengono mai rappresentate e che in qualche modo sono scomode. A me piace raccontare tutto ciò che è scomodo perché secondo me bisogna dare valore anche a quegli aspetti che rappresentano la diversità, che ancora sono messi un po' ai margini della società e quindi adoro e preferisco raccontare storie dei diversi, perché per me diversi sono dei valori aggiunti. Io come regista mi formo alla scuola d'alte laboratorio di arte cinematografica a Roma e ovviamente dopo diversi anni di attore, quindi stando sui set ho anche acquisito le competenze di base e poi ho unito in qualche modo con la mia creatività. Sono contento di stare qui al premio Vincenzo Crocitti perché riconosco in Francesco Fiumarella in qualche modo l'ideatore di questo grandissimo festival un grande riconoscimento che è quello di valorizzare ovviamente la meritocrazia, una parola tanto diciamo bella quanto ovviamente difficile da vedere. Io credo che in Italia soprattutto, anch'io personalmente ho fatto caso che all'estero ho avuto molti più riconoscimenti rispetto all'Italia perché l'Italia purtroppo abbiamo questa politica scorretta a qualunque livello, a qualunque tipo di situazione di premiazione, quindi conoscere sempre qualcuno per arrivare, ma anche gli stessi, lo dico, anche gli stessi bandi ministeriali non si capisce mai, non c'è mai trasparenza, non c'è mai diciamo così lealtà nelle cose. Anche nel mondo c'è uno star system che ancora purtroppo porta avanti le sue persone, le sue situazioni. Io nel mio piccolo d'artista dico sempre che il merito in qualche modo la fine premia e mentre diciamo tutto ciò che in qualche modo è manipolato da altro in qualche modo si blocca. Ecco questo. Viva la meritocrazia, viva questo festival e finalmente abbiamo qualcuno che ci appoggia. Grazie mille.